Buongiorno a tutti sono LeadBreadWale200 Questo è il mio secondo video di Call of Duty Black Ops 2 che vi mostrerò Siamo qui ancora sulla mappa INJUNCAT Per mostrarvi non dell'anno primaria Ma per il sito delle serie di punti Che avrò solo La macchina mortale Il loadstar che vi ho parlato nel precedente video C'erano le fanno anche oggi E del mezzo litro Adesso iniziamo subito subito la partita Attenzione Un piccolo bastardo che mi scappa Ma lo prendo subito Chiamiamo Oh lo sono già per chiamare Nooo Perché ho parlato Stavo per dire che stavo già per chiamare Una macchina mortale ma non ci sono riuscito Una macchina mortale costa 100 punti meno rispetto a Dragonfire Infatti le costa 850 Però è piuttosto letale In quanto è una minigun Appena arriverò a 850 punti ve la mostrerò Headshot Beach Oh piano Ma nooo ma non uccidermi così va Marcatrota A una Alla macchina mortale Pezzi di cacca Riprendiamoci Perchè si muore così con la macchina mortale Vien cazzo Ma Tio anche questo qua Oh ragazzi oggi non riesco a fare un video decente Continuiamo a morire con uno sciocco Te pezzo di merda con lo scuro se te che mi uccide Cercavo di salvarti invece sei morto Comunque guardate l'embeva vendetta Quante volte l'ho fatto L'ho fatto Perchè la farò La macchina mortale la chiamerò In un prossimo futuro Perchè adesso Cercherò Di chiamarmi tutte le Serie di punti Così almeno Farò più velocemente La vittoria Sì E' un nuovo Che sciocchezza Ok questa macchina mortale Questa Minigang Paurosa Cos'è lui Stiamo mirando E però Mirare ci Perghe della di più tempo Adesso Andiamo a giro con questa macchina mortale Qua Sento un dio con questa macchina povera per i miei piccoli armenti con foto quella che ho io Ma siete scappati tutti Ma no, mi hanno ucciso e quindi l'abbiamo persa Ah no, non la perdiamo Meno male Potrei continuare a usarla Non c'è i miei nemici che mi si porgeranno Doppia Ok, adesso abbiamo finito Praticamente non perdiamo la macchina mortale quando veniamo uccisi La macchina mortale finisce semplicemente Per sparire deve finire le munizioni E' vero che ho detto Mi ricorso sull'FMJ Ora cercherò di chiamarle tutte Cos'almeno posso andare alla vittoria facilmente Ma nooo Morte d'imbecille Ma che cacchio Ma 50 Non farebbe Non fare 200 punti al mincio Non fare 300 punti al mincio Non fare 300 punti al mincio 3 il fan non uccide da dietro tanto più uccisione in faccia meglio il tubo sta rumore comunque la macchina mortale non è praticamente difficile da prendere a 350 punti si fanno su facilmente però se gli amici mi scappano sono 60 tiro mettiamci l'impegno se avessi a chiamare qualche altra serie di punti sarei anche felice se c'è un'impegno si può morire così come un dembecille ovviamente la ragazza ha ragione della giornata si e spero che ce ne erano dietro che mi sparava cioè non me lo so immaginate che ce ne erano dietro che mi sparava si 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 aquel in tutta la zona con queste armi qua ci darà l'obiettivo forte dall'alto oppure se prendiamo il tasto RB sganciamo dei missili e si spargono in tutta la mappa facciamo più chili, i nemici sono i rombi rosso, noi siamo i rombi verde, intanto si muove in automatico, noi possiamo controllare solo le muscolatrici e spostandoci faremo delle stracce, a me questo lo devono faremo, adesso è via del lito, non è lato il salto, ciao io ho ancora acceso un po' questo, ma questo è un mezzo vita che ce ne andava nella mappa, questo invece è l'Holster, siamo su un altro altro, ma questo è l'Holster, ma questo è l'Holster, tipo di aereo, che lanciamo dei missili, Elstor, verso i nostri obiettivi, si sposta con la levetta che usiamo per spostare il fucile, e niente, possiamo fare le variate pila alla volta, e un missile non uccide solo un obiettivo, un po' uccidono di chi viene, e poi adesso dicono un ciclo, però ci ha detto che veniamo appassati da qualche bazooka, una stalla che un amico può avere, e adesso continuiamo a risolverciare le muscolatrici, ecco fatto, diciamo, oh, 122 chi, ragazzi, avete visto che straccia che abbiamo fatto? adesso continuiamo a fare chi, ce ne mancano meno di 30 alla fine, no, uffa, 2 alla macchina mortale, no, non si può, così, diciamo, 124, 124 altri, eh, 127, scusate, a 9, eh, c'è, i botti non hanno alcuna possibilità di batterci, vuol dire, prendaci, no, per tutta la volta, 129 ragazzi, una e arriviamo a 30, a 130, e dopo ce ne mancano 20 per vincere, uff, allora, c'è bello che questo vaspergo non c'è tanto nessun giocatore nella nostra partita, uff, ma min'cazo ragazzi, ma min'cazo di brutto, ce ne mancano, ce ne mancano 4台, cerchiamo di arrivare ancora alla macchina mortale a me è più facile ciao a poco ciao a tutti lo devi fare con il mare lo spiego lo prendi in settimana mi dici quando vuoi fare grazie cecchino a terra ma 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 cento tre sette ragazzi continuiamo così continuiamo così continuiamo così e fu così che ci uccise no scherzi dai dai 10 vince 10 vince non posso c le ultime decine faccio con questa 6 5 5 2 5 2 5 2 4 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2